Ci occupiamo di persone scomparse. E siete bravi a trovarle? Io sì. Lui no. Le persone spariscono per farsi i cazzi loro. Io so cosa significa. Io ti trovo. Non si capisce che mansione abbia svolto, se è un poliziotto, se non lo è. Perché sei scomparso? Io seguo il mio metodo. Ed è l'unica cosa che so fare.